Bertonesi, vi chiedo scusa, vi lascio un breve messaggio vocale per informarla della bella iniziativa imprenditoriale che mi è venuta in mente. La politica mi ha rotto un po' i coglioni, le varie televisioni mi hanno stancato e allora grazie ad un'intuizione del mio amico Tonino, lei lo conosce da Tonino? Tonino il feticista dei piedi, ho deciso di aprire nella zona di Giovenzano dove c'è tra l'altro il suo amico Rino 32 un bellissimo outlet, uno store, lo chiamo un po' come cazzo vuole, insomma il gran bazar dell'auto del Silvio, dove ho deciso di inserire come auto un target del suo livello, cioè macchine di merda, avremo set marbelle e quant'altro, macchine senza i sedili, senza i finestrini, insomma senza gli specchietti, macchine di merda al suo livello, tipo la sua puma insomma ecco. Quindi poi ho assunto un ragazzo, Dimitri, un bravo ragazzo e sicuramente sono convinto che a Giovenzano e parti del Pavese risponderanno bene con questa iniziativa del Silvio. Il gran bazar dell'auto, solo macchine di merda. Salve Bertonesi!